Musica Legge di riordino, deciso il contingentamento DDL autonomia differenziata, incontro con il ministro Calderoli in settima commissione Allarme ai suicidi in carcere, presentato uno studio sulla situazione nazionale Nuova edizione di Consiglio News, ben trovati, disegno di legge di riordino, migliaia, gli emendamenti depositati, deciso il contingentamento La prossima settimana l'aula sarà convocata da lunedì a venerdì, anche in notturna Su richiesta della Giunta, la conferenza dei capigruppo ha deciso il contingentamento per il DDL Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale anno 2022 Che interviene per modificare alcune leggi regionali contenenti specifiche discipline di settore Al fine di aggiornarle, attualizzarle e renderle più coerenti con il riparto delle competenze Stato-Regioni ed evitare contenziosi L'opposizione obietta che la maggioranza intenda modificare profondamente alcune leggi in vigore Comprese quelle che riguardano la caccia, il gioco legale e le estrazioni Gli emendamenti depositati sul testo, composto da 91 articoli, sono circa 4.600, di cui un centinaio di maggioranza Nella riunione presieduta da Stefano all'Asia è stato quindi deciso di convocare l'aula da lunedì 27 febbraio a venerdì 3 marzo, anche in notturna In generale i settori su cui il DDL interviene sono diversi Agricoltura e caccia, attività estrative, edilizia sociale, movimenti migratori, foreste, governo del territorio, elettromagnetismo, trasporti, pari opportunità, usi civici, commercio, sanità, impegni istituzionali Incontro a Palazzo Lascaris con il ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli Che ha preso parte alla settima commissione autonomia presieduta da Riccardo Lanzo Tema della riunione con i consiglieri, a cui hanno preso parte anche i sindaci di capoluogo e i presidenti della provincia È stato lo schema del disegno di legge disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario È la prima volta che un ministro venga in una commissione a livello regionale L'ho fatto in Lombardia e come seconda patria al Piemonte per me doveva essere un atto obbligatorio, anzi gradito Con ITER che sta proseguendo, quali sono gli step? Giovedì prossimo conferenza unificata, poi approvazione definitiva e poi in Parlamento Oggi la presenza per la prima volta qua a Palazzo Lascaris di un ministro della Repubblica Fa onore al Consiglio e fa onore alla riforma che si porterà avanti Siamo al percorso iniziale, è stato approvato un disegno di legge nel Consiglio dei Ministri Ci sarà tutto un percorso, un confronto tra Stato e Regioni per verificare le maggiori forme di autonomia La riorganizzazione dello Stato sui territori è di un'importanza decisiva per la democrazia del nostro paese L'auspicio per quanto ci riguarda è che il documento iniziale depositato dal ministro Calderoli trovi spazi per migliori condivisioni Elettricità a prezzo calmierato a Stellantis Questo è il tema dell'interrogazione che la consigliera Francesca Frediani, Movimento 4 Ottobre ha rivolto all'assessore Matteo Marnati A che punto è la proposta di regolamento che dovrà disciplinare le forniture di energia elettrica a costo calmierato a Stellantis e agli altri soggetti privati in difficoltà? Questa è l'interrogazione che la consigliera del Movimento 4 Ottobre, Francesca Frediani ha rivolto all'assessore nell'ambito dei question time La proposta rientra nell'accordo sottoscritto a settembre 2022 tra l'amministratore delegato di Stellantis, Carlo Stavares il presidente della regione, Alberto Cirio e il sindaco di Torino, Stefano Lorusso con cui il gruppo Stellantis annunciava investimenti strategici a Torino e in Piemonte L'obiettivo del progetto è far diventare lo stabilimento di Mirafiori lab del riciclo e fare in modo che entro il 2030 il 100% dell'automobile sia riciclabile Nella nota, a firma dell'assessore Matteo Marnati letta in aula dalla collega di Giunta Elena Chiorino si spiega che il regolamento individua le modalità di conteggio dell'energia gratuita e del relativo valore e prevede la monetizzazione a beneficio della regione Spetterà la Giunta a individuare ogni due anni le tipologie di servizi pubblici e le categorie di utenti beneficiari a cui attribuire le risorse finanziarie dando priorità ai servizi sociosanitari assistenziali scolastici di protezione civile e comunali Allarme ai suicidi in carcere 5 casi in Piemonte nel 2022 il garante dei detenuti Bruno Mellano sottolinea siamo al lavoro per prevenire i rischi Sono stati 85 nel 2022 i casi di suicidio accertati nelle carceri italiane di questi 5 sono avvenuti in Piemonte 4 a Torino e 1 a Saluzzo sono 6 a livello nazionale quelli già verificati nel 2023 e quanto emerge dallo studio sui suicidi negli istituti penitenziari italiani elaborato dal garante nazionale delle persone private e della libertà personale e presentato nell'incontro il fenomeno dei suicidi in carcere un'emergenza tragica e un grido d'allarme organizzato e moderato dal garante regionale dei detenuti Bruno Mellano I suicidi in carcere sono un allarme importante a livello nazionale casi tutti diversi l'uno dall'altro ma accomunati da una media attenzione alla singola situazione personale occorre trovare gli strumenti per monitorare i momenti di crisi che sono sempre gli stessi l'ingresso e paradossalmente anche l'uscita dal carcere Le soluzioni che noi abbiamo individuato consistono poi tutte nel cercare di riallacciare questo strappo con il tessuto sociale esterno Rimaniamo in tema è dedicata all'articolo 27 della Costituzione in particolare al concetto di umanizzazione della pena la mostra allestita all'URP del Consiglio regionale Sarà esposta fino al 28 febbraio nelle vetrine dell'ufficio relazioni con il pubblico del Consiglio regionale in via Arsenale 14G la mostra articolo 27 15 pannelli con grafiche e strisce di fumetti disegnate dagli studenti dell'Accademia Albertina di Belle Arti che invitano a riflettere sul significato dell'articolo 27 della Costituzione in particolare sull'umanizzazione della pena sul suo scopo rieducativo e sulle discriminazioni subite dagli ex detenuti a portare i saluti istituzionali il consigliere segretario Ivano Martinetti l'articolo 27 va assolutamente divulgato noi dobbiamo cominciare a pensare veramente alla pena detentiva come a una pena di reeducazione e non a un semplice contenimento presenti Paola Valdovino difensore civico della regione Piemonte Ilenia Serra garante per l'infanzia Bruno Mellano garante per i detenuti Iuri Nervo presidente dell'Associazione Esseri Umani Pier Paolo Rovero professore dell'Accademia Albertina di Belle Arti con alcuni studenti La mostra diventerà itinerante nelle scuole ed è stata già presentata in alcune carceri del Piemonte Attraverso l'arte vengono veicolati dei messaggi fondamentali lo sono per tutti ma lo sono a maggior ragione quando si tratta di persone di minore età dove credo che l'aspetto della rieducazione e soprattutto l'aspetto del reinserimento sociale debbano essere assolutamente centrali Il pregiudizio spesso si accompagna alla discriminazione e quindi ho ritenuto opportuno sostenere questo progetto proprio nel mio ruolo di difensore civico ma anche di garante del principio di non discriminazione e di pare opportunità Per questa edizione è tutto prima di salutarvi vi ricordo che sul sito cr.piemonte.it trovate notizie e aggiornamenti sull'attività del Consiglio regionale del Piemonte Arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.